Nel momento in cui entri in contatto con l'originale, inizi a ascoltare questa musica, ti accorgi che c'è un motivo per cui sei stata campionata, cioè musica d'ora, è proprio forse un momento in cui la composizione in quel genere, nel funk, nel jet funk, ha raggiunto il top della qualità. Per cui è quasi inevitabile che tu ti innamori dell'originale.